Quello è lavoro e poi c'è la passione, la passione c'era quando la sera a Milano finivi di registrare in sala di registrazione qualcosa e andavi o al Tangram, dipende da cosa vuole suonare, o al Capolinea, andavi a Capolinea e suonavi sul palco dove c'era un pianista che è il grande Mario Rusca che era l'unico pagato e chiunque si era su quel palco saliva per passione, James Henshaw, il libro se ne è capitato Eric Clapton.